Ha coinvolto più di un migliaio di bambini della provincia di Macerata l'ormai tradizionale concorso promosso dall'associazione Piombini Sensini. Un'esperienza molto bella che nel titolo ricorda i bambini raccontano, ricorda quella che è una delle esperienze più belle di Macerata. Macerata racconta una città che anche attraverso i bambini prova a rimettere al centro proprio il racconto dei bambini per poter crescere meglio. Un grande ringraziamento a Andrea Marangoni, all'associazione Piombini Sensini, ma un grande ringraziamento alle maestre delle scuole perché hanno sempre una grande voglia di partecipare, un grande desiderio di essere parte attiva della città. L'associazione organizza ogni anno un concorso per i bambini della scuola primaria della provincia di Macerata. Quest'anno hanno partecipato sei istituti comprensivi di Macerata, Recanati, San Ginesio e Pollenza per un totale di circa 1100 alunni di scuola primaria. Quest'anno il tema era il gioco e quindi attraverso dei seminari all'interno delle scuole abbiamo affrontato ed effettuato dei laboratori con delle attivazioni dell'intelligenza emotiva sia per gli insegnanti che per i genitori e soprattutto per i bambini. Stamattina vengono premiate le 20 classi che hanno prodotto i migliori lavori all'interno del concorso, i bambini raccontano il gioco, suddiviso in quattro ambiti, i testi, i disegni, la creatività manuale e i cortometraggi che è stata una nuova parte che abbiamo introdotto quest'anno e che ha riscosso un notevole successo. Tra i vincitori della nuova categoria cortometraggio la classe quarta A della scuola Montessori di Macerata guidata dalla maestra Maria Lambertucci. È stata un'esperienza nuova per noi che ci è venuta di getto l'idea perché avevamo trascorso una bellissima giornata appunto a Villa Ficana giocando e così abbiamo pensato di realizzare un piccolo video che avesse un messaggio significativo universale dove da una parte i bambini mostrano quanto sia bello e quanto appartenga a loro il gioco e come altri non hanno la possibilità di farlo.